La notizia della morte di Maurizio Cevenini ha lasciato senza parole Bologna. Assolutamente scioccata. L'ho saputo stamattina andando a fare acquisti e nel negozio dove sono entrata c'era una radio accesa. Siamo rimasti senza parole, sia io che la signora che avrebbe dovuto servire. Siamo rimasti senza parole e ho fatto fatica a realizzare cosa ero andata a comprare, dico la verità. Si è ucciso lanciandosi da una finestra del palazzo della regione di cui lui era consigliere. Sconosciuto ancora il motivo del tragico gesto, il Cev ha lasciato solo un biglietto in cui chiedeva di prendersi cura della moglie e della figlia. La bandiera del comune di Bologna oggi è a mezz'asta in segno di lutto per la scomparsa di uno dei politici più amati della città. Non sono bolognese, però l'ho conosciuto per le cronache degli ultimi momenti quando era stato candidato sindaco per Bologna. Mi è dispiaciuto molto perché mi sembrava una persona molto amata e non ho ancora bene capito il gesto. Era una brava persona, tutto lì. È vero che c'era un grande lecame tra Cevenini e i bolognesi? Secondo me sì, però se non altro era una persona onesta, differentemente da tanti altri. Se non avesse avuto la malattia probabilmente sarebbe stato il nostro sindaco. Mister Preferenze era chiamato così Cevenini per il grande consenso che aveva ottenuto alle scorse comunali, frutto di quel legame con Bologna e i bolognesi che il CEF si era guadagnato negli anni grazie al suo impegno in politica, al lavoro svolto nell'associazionismo e a quella sua passione sfegatata per il Bologno a calcio. Andava ovunque con la sciarpa rosso blu al collo, tanto da essere soprannominato il consigliere del Dallara. Una malattia l'aveva fermato nella corsa alle primarie del PD per la candidatura a sindaco, un ruolo che avrebbe meritato anche secondo Virginio Merola. Il CEF c'è e ci sarà sempre. Continuerà a essere popolare e amato da tanti bolognesi e da tante bolognesi. Quello che perdiamo è un sindaco che avrebbe potuto essere eletto prima e meglio di me. E quello che purtroppo perdiamo è un amministratore che amava questa città, capace di essere sopra delle parti, nell'interesse generale dei bolognesi. E perdiamo un uomo di sinistra che è sempre stato fedele ai propri ideali. Cevenini deteneva anche il record di matrimoni celebrati nella Sala Rossa. Mi ha anche sposato Cevenini, purtroppo è un gran dolore. Ed è in questa stessa sala che molto probabilmente verrà allestita la Camera Ardente nei prossimi giorni. E adesso la città e il PD si stringono a luto nel ricordo del CEF che da oggi non c'è più.